buongiorno buonasera a tutti ragazzi eccoci qui ritrovando il canale per 1927 sono simone e quest'oggi andremo ad analizzare la partita di ieri sera innanzitutto non non me è capacito perché facciamo ancora giocare brian cristante perché facciamo ancora giocare cristante giaco e nzonzi ma come se fa o cioè ieri due a cioè siamo riusciti a parigiare due a due pure ieri o la difesa o cioè partiamo subito primo gol su angolo kolarov non so tu l'hai visto non lo so partiamo con l'hashtag chi l'ha visto chi l'ha visto chi ha visto il difensore che kolarov non si sa che stava a fare fazio stava a parlare un attimo con qualcuno per vedere che si mangiavano dopo la partita e poi poi vabbè grazie grazie a klyvert al 19enne olandese che ha messo un cross dopo una finta spettacolare su biraghi cross bellissimo sul secondo palo e chi segna proprio lui nicolò zagnolo il nostro talentino italiano una reazione pazzesca la mette sul proprio sull'altro palo dove stava il portiere schiaccia il palo e dopo va a finire in porta all'altro lato gol spettacolare 1 a 1 poi vantaggio della fiorentina piraghi che cosa ha fatto prima sbaglia il controllo e su cioè controlla marcatura su klyvert poi fa sombrero grossi in mezzo e chi ci segna gerson ci ha segnato pure gerson no mamma mia gerson vabbè io non c'ho parole non c'ho parole abbiamo fatto segnare pure che alla fine è il nostro giocatore che sicuramente ce lo ridanno questo qua mi sa proprio che ce lo ridanno da quello che sto a sentire eppure da quello che si vede non è che è tutto sto pensavo che sarebbe un po' ambientale una fiorentina però non lo so vabbè altro punto gol spettacolare vabbè spettacolare parodì aspetta aspetta sulla deviazione di quel panzone di guangisus che non so che si è magnato prima di giocare perché non lo so una balena si è diventato cioè quello ci ha messo il piede e il gol vabbè la forza è un po' una disattenzione però vabbè e niente 2 a 1 per la fiorentina poi ancora ci pensa clivert cross sul secondo palo e ci arriva proprio lui diego perotti e il monito e 2 a 2 poi vogliamo parlare di diego diego già l'ho detto nel precedente video contro il napoli ci arriva palla non la stoppa e manda la palla per i campi di cicoria poi che c'è sta a zonzi zonzi il difensore lo sa fa bene sui calci munizioni sa difendere molto bene l'ultima occasione della roma se non sbaglio dopo l'ottantacinquesimo l'ultima azione della roma se non ricordo male e poi niente cioè la cosa ieri è la difesa la difesa pure il centrocampo Cristante Zagnolo si è salva Zagnolo proprio l'unico che si è salva insieme a clivert un po' perotti il primo tempo perotti non l'ha giocato molto bene perché Ranieri ci andava a chiedere di chiude tutti i possibili passaggi di vere tu e lui stava a passeggiare in mezzo al campo non si sa pure lui che cosa abbia fatto e Santon si è infortunato a Santon da quello che stavo leggendo prima e oddio Mirante Mirante ha salvato due o tre azioni da gol che se c'è stava Olsen il primo tiro quello dei Benassi che pure se era centrale però era un po' alto Olsen invece ci mettava la mano e poi arrivava su perché le brezze al gol lo deve provare il primo gol cioè il primo gol lo deve proprio sentì Olsen invece Mirante l'ha parato poi se non ricordo male anche un palo di Muriel che secondo me Mirante ci sarebbe arrivato infatti se non sbaglio anche un po' toccata e poi già ce l'ha già ce l'ha il piedino già ce l'ha il piedino pronto ecco nel precedente video ho detto che Muriel c'ha il piedino caldo e non l'ha segnato quindi Quagliarella c'ha il piede caldo dai Quagliarella c'ha il piede caldo quindi spero che il video di oggi vi sia piaciuto noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao ciao